Buongiorno Fagnano, eccoci con il video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Iniziamo con la statistica anagrafica del mese di agosto 2024, al 31-8 i fagnanesi erano 12.469, nel mese di agosto sono nati 7 bambini e sono decedute 13 persone. Come ogni volta un benvenuto e un augurio a tutte le neofamiglie del nostro paese e a tutti i bambini appena arrivati e sentite condoglianze e abbraccio a tutte quelle famiglie che hanno perso i loro cari nel mese di agosto. Questa settimana molto probabilmente ci sarà la chiusura in alcune ore di via Patrioti per la sistemazione di un chiusino della rete fognaria e la sistemazione di una sala cinesca sempre del sistema idrico della via. Attenzione alla pagina Facebook dell'amministrazione comunale o all'albopretorio dove verrà comunque scritto la chiusura della via proprio per disporre e dalla possibilità di svolgere questi lavori. Gli eventi del fine settimana, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle ore 18 prosegue in stracamino la mostra dedicata al mare di Raimondo Colantonio. Sempre sabato alle ore 17.30 al castello Giuseppe Agnesina ci presenta il suo nuovo romanzo l'ultimo appuntamento del Festival di Fagnano in musica con il recital chitarristico di Nicola Snebuloni. Sarà un'occasione per festeggiare i 50 anni del Comitato Genitori promotore del Festival a cui va tutto il nostro augurio e ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni. L'evento istituzionale è quello di lunedì alle ore 21 il Consiglio Comunale, si può assistere in sala consigliare che è aperta al pubblico o sul sito internet del Comune di Fagnano la diretta streaming. Non mi resta altro di aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!